Ragazzuoli benvenuti su questo nuovissimo video Finalmente è arrivata la season 10 di Fortnite, l'aspettavamo da tantissimo tempo E sono super curiosa di vedere le modifiche che hanno apportato al gioco Quindi ragazzi andiamo a vederle subito insieme Ma io dal trailer ho visto una cosa che non mi è piaciuta Però adesso andiamo a verificarlo insieme Ho visto, ecco, proprio lui, proprio lui Questo maledetto robot Che io inizialmente pensavo che il robot fosse in una modalità a parte del gioco Invece a quanto pare il robot è appunto inserito su ogni modalità di Fortnite Il che secondo me non è una cosa molto positiva Ma andiamo a vedere subito che cosa fa Quindi brutto Questo veicolo può essere azionato da un massimo di due giocatori Se lo usano due giocatori, uno pilota e uno controlla quindi il movimento E l'altro invece immagino che debba sparare Dimensioni caricatore 10 danno 50 Ragazzi Spara fino a 10 missili contemporaneamente Epic Games Mi prendi per il cu... Ma siamo seri? Cioè già che gli espressivi su questo gioco ragazzi sono un grosso problema Tipo dalla season 2 Ma 10... Ragazzi andiamo subito a provare questa cosa immediatamente Perché secondo me è davvero broken Ricordo di acquistare il battle pass o comunque qualsiasi altra skin Usando il codice creatore Coratomist ragazzi Anche perché ogni 14 giorni il creator code si elimina E voi appunto dovete aggiungerlo manualmente Quindi sì ragazzi se volete supportarmi Codice creatore Coratomist Ora passiamo al video ragazzi e godiamoci questo robot perché secondo me sarà una maialata incredibile Mentre le squad a quattro sono vedi nabbi Quelli secondo me dopo facciamo un bel duo squad Cheat morti tutti alla prima serie Cheat morti tutti alla prima serie Cheat morti tutti alla prima serie Cheat morti la testa Cheat morti lì Entra però sopra Entra però sopra Dove sei? Vieni 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 Nooo 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 Ma che che sta guidando? Io 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 Sali 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 Ma come? Ma vieni Brutti bastardi Formiche Siete formiche Ho entrato dentro Guarda era io quello Madonna di Dio Guarda quello Formiche Rana Rana Tirami un cazzotto Non riesco Dove cazzo passa roba tu? Prendi l'arma Ragazzi ragazzi Io ho quattro kill Tu? Io ho una Ok Togliamo ragazzi No ci taglio un sacco Forse lo hito Tanta? No 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 E' un hito Dietro Mettiamo Ok Ora adottiamo questo Mettiamo il robot sul falò Vieni vieni Vai Farma un po' Farma 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 Ma perché si può curare? No impossibile Secondo me si Vado? Non ci credo Tieni questo Tieni questo Ah Tieni colpi No ma Lì ho Lì ho Lì ho Prendi Prendi Fa tutto Tutto Anche io Anche io Farmiamo un attimo A favore col robot Grazie Che cavo Nata Vai Vai dentro Shifty E farmiamo tutto Veroce Dietro Sopra No Occhio No Ora le sporo L'altro Controldevo la mappa Però non posso raggiungere Io so 7 kill Fa come deve fare Ah ti sento a zitto Adesso fai Entra la finestra Di una pompata Oh Gliele tirate veramente? Sì 161 L'hai fatto Allora te lo lascio Te lo posso stilare Ma evita Ma posso Eh sì Facciamo presto Per questo Devo morire La madonna Era full Più tre scudino Sai che non c'è nessuno Vai entrami Il piano è ancora disponibile Vuoi il pompa Quello viola? No Tieni questo Dai colpi piccoli Ne avventure Sai che non li ho luttati Da quella Ah tu se vuoi Cominciate ad andare Anche senza di me Dai che anche se non escono Tanti kill Potrebbe essere comunque Un video figo Perché abbiamo fatto La cosa bella Con i robot all'inizio Dai ci sta Ci sta Cerchiamo di vincere Sto game Va bene? Sì 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 No perché l'altro all'inizio è stato divertentissimo Tu che rendi che scappavi perché avevi paura che ti entrassero nel robot E se entravano ero morta io eh Eh si è appunto No no guardi 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 Dio santo Dio bellissimo Aspetta box un attimo il robot Vai Entriamo a centrarmi Sali Sei tu che spari Tu spari Ah io sono tu Dietri da 70 Mi spara Sopra Sopra Guardi che qua si distrutta il cosa Ma non spara Ma che cazzo Esci Sulla montagna Qua si è a terra Ma C'è Pisco qui Ho il pad Quindi andiamo Per a quello del quartiere Ma c'è Qua Tartellino Tartellino Vabbè ma questa cosa è Broken Guarda che 50 missile è tantissimo Eh guarda guarda A 75 Morto Tortellino si chiamava questo Tortellino ragazzi Ok vai cammino Vedi volando 2 e 40 2 e 40 La pezza Lol Guarda sud Guarda sud E uno Va 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 Non cado Sali Vai Vai Ma cado Uno è sopra Rfg Ma stiamo vincendo Porca Vai 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 Altri due persone Inizio a sfoccare tutto Perché questi camper Guarda quanto stai farmando Ma è ridicola questa cosa E non è che campfire per i robot Io ne ho uno Sì Scegli Perché io Aspetta lo mettiamo dopo però Metti lo metti L'hai messo in mezzo Sì E' ridicola questa cosa No spostalo Ah ragazzi Io nel dubbio intanto Un po' di Non sciogliere Da fuori è bellissimo Vai 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 monta Andiamo a vincere Vai vai No Che ci fanno Aspetta Io sappiamo Come faccio il Ma sono velocissimo Lo sai Sono molto veloce Ho dovuto guardare la mia skin Come muove la testa Sì Ma qui è un clown Cattivissimo Esatto Non è che sono sopra Questi No Tanto devono scegliere Poi è un fucile a pompa Sì E' un tattico tipo No Salta sopra Ma ti ha nitato? Pensate Sì Salta al massimo Shift verso l'alto Cattolò Stanno Finto 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 Non lo abbatteranno Non lo abbatteranno Devono scendere Prima di abbatterla Ce la faremo ad usarla Fidati Sto scendendo Marti Entra il robot Entra il cazzo Ma adesso chiamo di morire E' one shot Vediamo Non voglio perdere il game però Vai l'ultimo di robot Sicuro? Vai Entra 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 Come sei? No No È blu È bianco Vai Vai porca La vedi a capire La box alla Vieni qua Vai Grazie a tutti.